C'è un giorno, un unico giorno che è solamente nostro. C'è un giorno, un giorno solo in cui tutti gli americani che non si sono fatti da sé ritornano alla vecchia casa a mangiare i biscotti al bicarbonato, a fare gran meraviglie osservando come la vecchia pompa sembri vicina al portico assai più di una volta. Faustissimo giorno. La metropoli, ad est delle golene fitte di mortella, ha fatto del giorno del ringraziamento una vera istituzione. L'ultimo giovedì di novembre è il solo giorno dell'anno in cui essa riconosca quell'America che sta dall'altra parte dei traghetti. è il solo giorno puramente americano. Sì, un giorno di celebrazione, esclusivamente americano. E passiamo ora alla storia, che dimostra come da questa parte dell'Atlantico abbiamo tradizioni che stanno invecchiando a un ritmo assai più rapido che non quelle d'Inghilterra, grazie alla nostra efficienza e al nostro spirito d'iniziativa. Staffy Pitt prese posto sulla terza panca, alla destra di chi entra in Union Square da est, sul vialetto di fronte alla fontana. Ogni giorno del ringraziamento, a luna in punto, si era seduto a quel posto, già che ogni volta che si era comportato a quel modo, gli era accaduto qualcosa, qualcosa di Dickensiano, che gli aveva gonfiato il panciotto sul cuore, e anche un po' più sotto. Ma a quel giorno, l'apparizione di Staffy Pitt all'appuntamento annuale pareva dovuta piuttosto all'abitudine, che non a quell'annua fame che, come pare ritengano i filantropi, affligge i poveri a così ampi intervalli. Certamente Pitt non era affamato. Era allora allora uscito da un banchetto che gli aveva lasciato intatte solo le facoltà della respirazione e della locomozione. Era tutto cencioso e il davanti della camicia, spalancato, gli scopriva la forcella. Ma il vento novembrino, carico di minuti fiocchi di neve, gli recava solo una grata frescura, giacché Staffy Pitt era oberato del calorico, generato da un pranzo sovrabbondante, iniziato con ostriche e concluso con budino di prugne, che aveva incluso, come gli sembrava, tutto il tacchino arrosto, le patate al forno, l'insalata di pollo, il pasticcio di zucca e il gelato di questo mondo. Per cui egli sedeva gravato di cibi e contemplava il mondo con disdegno post-prandiale. Quel pranzo era giunto affatto inaspettato. Stava passando accanto a una casa di Rossi Mattoni, all'inizio della quinta strada, in cui vivevano due anziane signore di antica famiglia, rispettose e della tradizione. Costoro giungevano a negare l'esistenza di New York e tenevano per certo che il giorno del ringraziamento fosse stato proclamato unicamente per Washington Square. Era loro consuetudine metter di posta un servitore alla porta carraia, con l'ordine di fare entrare il primo passante affamato che fosse capitato da quelle parti non appena scoccato il mezzogiorno, e di nutrirlo senza risparmio. Stuffy Pete guardò dritto avanti a sé per dieci minuti, dopodiché avvertì il desiderio di un più variato spettacolo. Con uno sforzo tremendo, volse un po' con la testa verso sinistra, ed ecco gli occhi gli si dilatarono paurosamente. Il respiro gli si arrestò e le estremità delle sue corte gambe, rosamente calzate, si torsero e strusciarono sulla ghiaia, giacché il vecchio gentiluomo, attraversata la quarta strada, stava dirigendosi verso la sua panchina. Da nove anni, ogni giorno del ringraziamento, il vecchio gentiluomo veniva in quel luogo e trovava Stuffy Pete seduto su quella panchina. Il vecchio gentiluomo stava cercando di farne una tradizione. Da nove anni, ogni giorno del ringraziamento, aveva trovato Stuffy a quel posto, l'aveva portato al ristorante e aveva assistito al suo grande pasto. In Inghilterra queste cose si fanno inconsciamente, ma il nostro è un paese giovane e nove anni sono già qualcosa. Il vecchio gentiluomo era un leale patriota e si considerava un pioniere della tradizione americana. Per diventare pittoreschi bisogna continuare a fare qualcosa per tanto tempo, senza smettere. Il vecchio gentiluomo era alto, sottile, sessantenne. Vestito di nero portava quegli occhiali di vecchia foggia che non c'è verso di tenere fermi sul naso. I capelli erano più bianchi e radi dell'anno precedente e pareva fare maggiore uso del grosso bastone nodoso dal manico ricurvo. Mentre il suo benefattore istituzionale avanzava verso di lui, Stuffy ansimava e tremolava tutto, come un adiposo pechinese da signora quando un bastardo da marciapiede gli si fa addosso con le setole dritte. Volare avrebbe voluto. Il vecchio gentiluomo disse Buongiorno. Sono lieto di notare come le vicissitudini di un altro anno non vi abbiano spinto a percorrere il vasto mondo. Per questa sola fortuna giustamente ci è dato di celebrare il giorno del ringraziamento. Se vorrete venire con me, mio caro, vi provvederò di un pranzo che porrà il vostro essere fisico in accordo con l'essere mentale. Così parlava ogni volta il vecchio gentiluomo, ogni giorno del ringraziamento, da nove anni. Quelle parole erano oramai una istituzione. Non vi era nulla di paragonabile, tolta la dichiarazione di indipendenza. Sempre per l'innanzi erano state una musica per le orecchie di Stuffy, ma il volto che egli allora levò verso il vecchio gentiluomo esprimeva una mortale angoscia. La neve sottile strideva toccando la sua fronte sudata, ma il vecchio gentiluomo rabbrividì un poco e volse la schiena al vento. Stuffy si era sempre chiesto perché mai il vecchio gentiluomo pronunziasse il suo discorso con una certa malinconia. Non sapeva che ogni volta, in quel momento appunto, egli desiderava avere un figlio che potesse succedergli. Un figlio che sarebbe venuto in quello stesso posto, dopo la sua dipartita. Un figlio che, orgoglioso e forte, avrebbe detto ad un successivo Stuffy, in memoria di mio padre. Allora quella sarebbe stata una istituzione. Stuffy Pitt, ansimante, preda di una inane angoscia, lo fissò per mezzo minuto. La gioia di dare illuminava gli occhi del vecchio gentiluomo. Ogni anno il suo volto era più rugoso, ma la cravattina nera era sempre bellamente annodata, la biancheria era elegante e candida, e i baffi grigi si arricciavano graziosamente alle estremità. E allora Stuffy diede un suono, come di piselli che ribollono nella pentola. Tante grazie, signore. Verrò con voi. È obbligatissimo. Ho molta fame, signore, signore. Il coma della sazietà non aveva impedito che nella mente di Stuffy si facesse strada alla convinzione di essere il fondamento di una istituzione. L'appetito del giorno del ringraziamento non gli apparteneva. Apparteneva, per i sacri diritti della tradizione, se non per legittima uso capione, a questo cortese vecchio gentiluomo che su di esso aveva esercitato diritto di prelazione. Il vecchio gentiluomo condusse il suo annuale protégé verso sud, verso il ristorante, al tavolo dove si era sempre tenuto il banchetto. Li riconobbero. Il cameriere disse «Ecco qua il vecchio. Ogni ringraziamento paga il pranzo al medesimo morto di fame». Il vecchio gentiluomo sedette davanti a Stuffy, splendente come una perla grigia nella pietra d'angolo della futura antica tradizione. I camerieri ricoprirono la tavola di cibi festivi e Stuffy, con un sospiro che venne frainteso come espressione di fame, levò coltello e forchetta e si tagliò una corona di imperituro all'oro. Mai più valente eroe si aprì un varco tra schiere nemiche. Tacchino, costolette, brodi, verdure, pasticci scomparvero con la stessa velocità con cui venivano serviti. Già poco meno che all'estremo, quando era entrato al ristorante, l'odore del cibo l'aveva quasi indotto a rinnegare il suo onore di gentiluomo, ma aveva stretto i denti da schietto cavaliere. Sul volto del vecchio gentiluomo aveva scorto la luce di una felicità generosa e gli era mancato il cuore di spegnerla. Un'ora dopo, Stuffy si appoggiava all'indietro, vittorioso. Sbuffò come un camino che non tira. Grazie di cuore, signor mio. Vi ringrazio di cuore del pranzo ristoratore. Come ogni anno si separarono alla porta. Il vecchio gentiluomo diretto a sud, Stuffy a nord. Passato il primo angolo, Stuffy si volse, rimase immobile un attimo. Poi, scompigliandosi i cenci come il gufo fa delle penne, cadde sul marciapiede come cavallo colpito da insolazione. Il giovane medico e l'autista, sopraggiunti con l'ambulanza, imprecarono sommessamente, sollevandolo a fatica. Non vi era odore di whisky che giustificasse il trasporto al carrozzone di Ronda e pertanto Stuffy e i due pranzi finirono all'ospedale. Lì lo distesero su un lettino e cominciarono a cercargli strane malattie, con la speranza che alla fine il nudo acciaio avrebbe consentito di risolvere qualche problema. Ed ecco, un'ora dopo, un'altra ambulanza portò il vecchio gentiluomo e lo deposero su un altro letto. E parlarono di appendicite, giacché aveva l'aria di coloro che possono pagarsi il conto. Ma di lì a poco, un giovane dottore incontrò una giovane infermiera, dei cui occhi si confessava ammiratore, e sostò a discorrere con Costey. Quel vecchio gentiluomo simpatico lassù, non ci crederesti, era quasi morto di fame. Orgoglio di famiglia, immagino. Mi ha detto che non mangia da tre giorni. Abbiamo trasmesso due gentiluomini del giorno del ringraziamento, Dio Henry. Traduzione di Giorgio Manganelli. Li hanno preso parte Giampiero Beccherelli, Adolfo Fenoglio, Franco Vaccaro, Gino Lana, Valeriano Gialli. Tecnico del suono Giuseppe Violatti, assistente alla regia Nando Amedeo, regia di Dante Reiteri. Programma realizzato dal centro di produzione di Torino della RAI. Grazie a tutti.